Recentemente, sembra che Michelle Unziker abbia trovato un nuovo amore che tiene tutti con il fiato sospeso. Nuova fiamma per Michelle. Ecco chi è il fortunato. Dopo la fine della sua relazione con Tommaso Trussardi e un breve periodo sentimentale con l'osteopata Alessandro Carollo. Che ha concluso la loro relazione con un annuncio a Pasqua. Michelle sembra aver voltato pagina. Fidanzata in segreto da quasi due mesi. Queste sono le parole che descrivono la nuova fase della vita sentimentale di Michelle Unziker. Che si sarebbe invischiata in una relazione con un'importante figura dell'alta moda. La notizia. Che ha sorpreso molti. Indica che la Unziker avrebbe già iniziato questa storia d'amore oltre un mese fa. Lontano dai riflettori e dalle telecamere. Preferendo mantenere la relazione lontana dalla città di Milano. Michelle Unziker. La segnalazione di Dejanira. La segnalazione di questo nuovo legame è stata resa nota da Dejanira Marzano. Influencer e esperta di gossip televisivo. La quale ha ricevuto un messaggio privato da una follower. Il messaggio rivelava. La Unziker è da un mese che si frequenta con uno dell'alta moda. Ovviamente di nascosto fuori Milano. Da oltre un mese. A questo. Dejanira ha risposto. Pare che la Unziker abbia un nuovo amore. Nonostante la curiosità sia alle stelle. L'identità del nuovo compagno rimane avvolta nel mistero. Mentre la ricerca sulla vera identità del nuovo fidanzato di Michelle procede. È chiaro che il cuore della conduttrice è nuovamente occupato da qualcuno che. Secondo le indiscrezioni. Sarebbe un nome noto nel settore della moda. Questo sviluppo porta con sé un fascino particolare. Visto il background di Michelle. Sempre vicino al mondo dello spettacolo e della moda. Vita privata di Michelle Unziker. Michelle Unziker è madre di tre figlie. Aurora. Nata dalla sua unione con Eros Ramazzotti. E Sole e Celeste. Avute con Tommaso Trussardi. Oltre ai cambiamenti nella sua vita amorosa. Michelle ha vissuto recentemente un altro momento significativo diventando nonna per la prima volta. Quando Aurora ha dato alla luce il piccolo Cesare il 30 marzo 2023. Questo nuovo capitolo nella vita di Michelle Unziker promette di portare nuove storie e. Forse. Nuovi dettagli sulla sua vita personale che continuano a interessare fan e seguaci. Il suo nuovo amore. Un uomo. Dell'alta moda. Aggiunge un ulteriore strato di glamour e mistero alla sua già affascinante biografia. Resta da vedere quando e come verranno svelati più dettagli su questa intrigante nuova relazione.